Di nuovo ben trovati con l'informazione del nostro telegiornale e tutte le notizie dalla regione. In primo piano partiamo dalla cronaca. È stata sequestrata dai carabinieri forestali di Pistoia una tonnellata di pericolosi gas florurati a forte effetto serra, usati per la ricarica dei condizionatori di aria delle auto e delle abitazioni e importati illegalmente dall'Est Europa. Si tratta di sostanza ad alto impatto ambientale in atmosfera. I forestali hanno controllato 20 aziende tra Pistoia, Prato e Ravenna e denunciato due persone a Pistoia. L'indagine non è conclusa e i carabinieri ipotizzano reati illeciti amministrativi per trasporto illecito di rifiuti speciali, importazione illegale, stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi senza autorizzazione, emissioni in commercio di gas non etichettati. Voltiamo decisamente pagina. Oggi la Toscana ha celebrato l'intelletto delle donne, giornata evento organizzata a Firenze nell'ambito del progetto La Toscana delle donne. L'iniziativa interamente finanziata dai fondi europei si è sviluppata all'insegna del confronto tra esperienze nazionali e internazionali che hanno come protagoniste donne impegnate a più livelli sul fronte dei diritti legati alla parità di genere. Sentiamo. Il percorso è ancora molto lungo perché uno studio dello scorso febbraio delle Nazioni Unite ha dichiarato che per raggiungere la parità di genere globale ci vorranno almeno 300 anni. Ripeto, almeno 300 anni. Quindi, dei passi in avanti sono stati fatti. Ad esempio, quando ho fondato la We Do It Together, la compagnia di produzione no profit dedicata all'empowerment delle donne, le donne registe negli Stati Uniti erano intorno al 7%. Poi Hollywood era in prima linea e questo numero è cambiato, passando dal 12 al 15% e adesso stiamo ritornando al 9% negli Stati Uniti. Quindi c'è una consapevolezza maggiore ma la strada è lunga. Non dobbiamo smettere questo percorso perché ricordiamoci che noi siamo chiamate una minoranza ma siamo una maggioranza perché siamo il 51% della popolazione. È stato dato il via libera al restyling di Coverciano. Con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di Firenze, il progetto di ristrutturazione del Centro Tecnico Federale ha completato il suo iter amministrativo. Tutto è pronto per l'avvio di un intervento organico per la struttura che dal 1958 ospita le nazionali italiane di calcio. L'intervento determinerà un ampliamento attraverso nuove costruzioni ma anche con il recupero edilizio di alcune di quelle esistenti. Secondo criteri di rispetto e integrazione paesaggistica con l'obiettivo di trasformare Coverciano in un luogo moderno e tecnologicamente avanzato. Vallombrosa, la foresta di Firenze, la sala Pegaso della regione toscana ha ospitato l'incontro a più voci sul futuro del rapporto tra la città e la sua foresta. Abbiamo fatto questo giorno oggi per presentarci e soprattutto per rafforzare e per valorizzare i legami di Firenze e Vallombrosa. Perché Vallombrosa è veramente la foresta di Firenze. Noi vorremmo che Vallombrosa diventasse la vetrina ecologica di Firenze e stiamo cercando di fare le cose più pratiche possibile. In particolare stiamo organizzando una tre giorni che si chiamerà Foresta Maestra, che avrà eventi sia a Firenze sia a Vallombrosa per testimoniare come Vallombrosa possa essere un centro di dibattito in tema ambientale di sostenibilità, un centro di formazione, un centro dove si discute di spiritualità. Questo sempre in connubio con Firenze. Ci spostiamo adesso a Volterra. Arte, cultura e robotica di scena dal 12 al 14 maggio. Per un'anticipazione della terza edizione del Festival della Robotica che si terrà a Pisa dal 19 al 21 maggio. Il ruolo della robotica nella creazione di opere d'arte e come l'interazione uomo-macchina diventa protagonista nel mondo dell'arte. Questo è il tema della tre giorni a Volterra che si apre con il workshop Robot, coscienza e arte a cura dell'Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e che mira a raccogliere ricerche ed esperienze artistiche nei campi multidisciplinari della robotica, dell'intelligenza artificiale e dell'arte. Spazio ancora alla cultura, alle avventure di Pinocchio compie 140 anni, un anniversario che il Polo Culturale Puccini-Gatteschi di Pistoia con l'associazione G713 Pistoia Valley e la Fondazione Nazionale Carlo Collodi ha deciso di celebrare con un ricco calendario di eventi che comprendono mostre, visite guidate a musei e laboratori di artisti ma anche un ciclo di incontri cinematografici con la proiezione di lungometraggi dedicati al burattino più famoso del mondo realizzati tra il 1911 e il 2019. Ci fermiamo qui, è davvero tutto per quanto riguarda le notizie dalla regione toscana. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi l'informazione prosegue con l'edizione provinciale del nostro telegiornale. Grazie a tutti!